Sì, un attimo, se no ha ragione, ha ragione, un attimo solo. Sì? C'è un tipo che è l'ennesima volta che viene, ecco. Vabbè, avete parlato voi? Si, vuole lavorare. Ho capito, però... Vabbè? Oh! Buongiorno. Buongiorno. Chiedo scusi che... Sì. Che non faccio tutto io qua. Che è successo? Io cerco un lavoro. Ah, sì sì, stanno, non è figurna. Stanno... Ecco, per esempio potrei proporre quello da 6 ore al giorno, 9.000 euro al mese. Ci dici? Ma stai scherzando? Sì. Però tu hai incominciato, eh. Non voglio dire, non è che... Cerco un lavoro. In questo periodo di crisi. C'è la caricatura, però... Ma che piace? C'è un sacco di andaluzione, mi piace. Quanto non mi dite più? La chiamiamo lunga a massa, va bene? Va bene. Sono io, non mi pago da quattro mesi. Chiudo la seconda. La caricatura. Da. Ca...